Oggi è stata proprio una vittoria di squadra, siamo entrati in partita con una concentrazione molto alta, siamo riusciti a tenerlo tutta la partita e a spingere di squadra, credo che oggi loro non hanno fatto la miglior partita, però noi siamo riusciti a spingere dall'inizio alla fine, adesso col periodo che abbiamo davanti dobbiamo avere questa continuità e sempre giocare di squadra. Grazie.